E' questa la normalità a cui ritornare. La normalità di cui abbiamo bisogno è vivere in equilibrio con la natura, in un mondo in cui le foreste siano rigogliose e gli oceani prosperano. In cui la produzione di cibo non divora il pianeta e i consumi non distruggono gli ecosistemi e il clima. Un mondo ricco di biodiversità. Oggi è il momento di scegliere il domani che vogliamo. Di chiedere il cambiamento che ieri sembrava impossibile. È il momento di entrare in azione per un futuro più verde, più giusto e più sano. La salute del pianeta è la tua salute. Destina il tuo 5x1000 a Greenpeace. Proteggi il pianeta insieme a noi. Nogetà. Il mondo ricco di più che della storle.